Donnington cade e io corro in pronto soccorso, mi viene incontro con una mano sanguinante e il dito mignolo pensoloni e mi dice, doctor cut my finger I won't raise, rimango inchiodato, il dito gli viene amputato e dopo una settimana viene da me e mi fa, doctor, mostrandomi il dito amputato, ok? Io ho detto, se ti piace a te, e mi fa, dottore, con questo vado ancora più veloce, more speed, ok? E ha dimostrato che aveva ragione. Sì, una vita può essere certamente racchiusa in una frase, avviene per tutte le vite esemplari. Dottore, tagliami il dito, voglio correre. In questa frase c'è tutto Troy Baileys. La passione per le moto, l'ansia di correre e la condanna di vincere, propria di ogni campione. Nel 2006, Troy torna in superbike e lo fa in sella al suo primo amore, la moto che gli ha regalato il primo titolo iridato, la Ducati. A Borgo Panigale c'è molta gente che crede ancora in lui, come Paolo Ciabatti. Decidiamo che noi in questo pilota ci crediamo ancora tanto e che è importante riportarlo in superbike. Convinciamo chi non era convinto che dopo quelle due stagioni così così in MotoGP Troy fosse ancora il pilota di una volta. Sicuramente la radiografia che ci manda, in cui si vedono tutte le viti che gli hanno messo nell'avambraccio e intorno al polso, sono preoccupanti. Ma Troy torna e torna e vince. Sono tornato in Ducati ed è stato come respirare una boccata di aria fresca. Quando provai la moto per la prima volta a Valencia, la 999, appena sono montato in sella ho sentito qualcosa. Non avevo passato molto tempo in GP, non era andata come previsto. Questo mi aveva reso più forte e alla fine anche un miglior pilota. Nel momento in cui sono tornato alla Ducati, in superbike, avevo fiducia in quello che potevo fare. Dopo aver testato la moto per la prima volta, era come se non fossi mai sceso dalla superbike Ducati. Un pilota migliore è una persona migliore. Troy ha colto il meglio dell'esperienza nel circus della MotoGP. Il moto mondiale era il suo sogno di ragazzo, l'ha coronato. E seppure non sia andata come aveva sperato, era stata una bella esperienza. Al box della superbike ritrova Ernesto Marinelli, che oltre ad essere il suo ingegnere di pista, è anche il direttore tecnico della Ducati in superbike. Con lui ho visto fare tantissime cose che era impossibile non amarlo e non metterci il sangue per qualsiasi cosa, perché dava sempre il 100%. A livello tecnico, una delle sue più grandi doti è che lui parava tutto il tempo sul giro. Quindi quando lui entrava, dava sempre il 100%. E quindi qualsiasi soluzione che si provava, sia che gli piacesse, che non gli piacesse, parlando tutto sul tempo sul giro, difficilmente abbiamo fatto le certe tagliate. Che invece, per quanti piloti, era un po' più difficile, perché a me andando a preferenze, un pochettino di far andare bene quello che vogliono, non so se ci dispiedo. Con lui invece era per lavorare, perché una volta mi dicevo, guarda qualcosa è schicco, provando più forte, mi dicevo che funziona, quindi io teniamola su, oppure al contrario, mi sento meglio, ma i tempi non vengono, e quindi è meglio che la scarpiamo. E quindi poi lui come guida è molto particolare, nel senso che è il contrario del pilota, diciamo, con la guida pulita e stabile. Lui si muoveva un sacco sulla moto, e questo gli dava il vantaggio di poter compensare con la posizione eventuale, problematica che presentava la moto. E infatti con lui abbiamo sempre usato dei setup molto estremi, che pochi piloti riuscivano ad utilizzare. Però lui, avendo proprio questa peculiarità di muoversi molto sul veicolo, riusciva, diciamo, a compensare per utilizzare i vantaggi di determinate soluzioni e compensare poi i difetti, diciamo. Troi e Marinelli si conoscono fin dai tempi del campionato AMA in America. Io la prima volta che abbiamo fatto il test d'Aitona, l'Aitona è un artista molto particolare, parlo della mecca d'Aitona, quindi ancora della storica della 200 miglia seria, dove avevi l'infilde e usavi tutte e quattro le NASCAR. C'era la NASCAR 4, che è l'ultima prima del rettilineo, dove, con gli anni precedenti, i piloti stavano in pieno, diciamo, normalmente nel giro della qualifica. Poi, di solito, lì si pelava sempre un po' il gas. Lui, alla seconda uscita, con il gomelagare, era pieno. C'è solo una pista prima. Quindi, questo per farti capire il grado di manico, se vogliamo chiamarlo così, che aveva. La stagione comincia alla grande. La confidenza con la Ducati 999 in edizione 2006 è massima. E dopo una gara di rodaggio, due secondi posti allo Zail e un sesto nella prima mancia a Phillip Island, Troy inanella una serie di otto vittorie. Con la Massimilveston, dove ha fatto le prove libere, è tutto a posto. Entriamo dentro, sempre per farti capire chi era Troy, andiamo dentro in qualifica, fa un giro con la gomma gara usata, diciamo forte presso la gomma gara usata, ma niente di particolare, e poi si stende. Torna dentro di corsa, prende l'altra moto con la gomma nuova, riesce, fa il giro lanciato, e si stende anche quella. Torna di corsa nel box e vive d'oltre alla gaffine di tutte le aspettate le riposte. E quindi ci riportano la prima ed era devastata, quindi i meccanici si mettono lì, le sbudellano come si la mettono a posto. Nel frattempo portano anche la seconda, che era messa un po' meglio, quindi molla la prima, quindi sistemare la seconda moto. Mancavano, mi sembra, esattamente un po' più di tre minuti alla fine del turno ed eravamo in fondo della classifica, probabilmente avevamo fatto su un giro e con le depusate. Abbiamo montato come una vada avanti, qualifica e entrato a fatto la polpa. Con altre quattro vittorie, per un magico totale di dodici, piega la concorrenza, ovvero l'ex ducatista e ora alfiere Honda James Toseland, che sarà il suo grande avversario di questi due anni, come nel 2001 e 2002 lo era stato Colin Edwards. Un Bayliss in grande spolvero, si laurea per la seconda volta campione del mondo e non c'è ragione di pensare che nel 2007 la scia vincente debba interrompersi. E invece sarà proprio così. Il 2007 è stato un anno molto difficile, perché il 999 cominciava a essere un po' vecchia e le altre moto erano diventate più veloci, quindi sapevamo di dover essere davvero concentrati. Ma poi tutto si fermò a Donington, quando ho avuto l'incidente. La stagione di Troy, altalenante nei risultati, può riassumersi in sette vittorie e in un quarto posto finale, che rappresenta il suo peggior risultato, escluso l'anno del debutto, e che non lo rappresenta affatto. In compenso, il primo aprile, Troy scrive di nuovo il suo nome nella leggenda della superbike e delle corse. Infatti, nel Gran Premio d'Europa a Donington, terzo appuntamento del campionato, in gara 1 cade e si fa male. Ma è quello che dirà Massimo Corbascio, direttore della clinica mobile in superbike, che farà storia. Eravamo in clinica mobile a Donington Park. Seguivamo la gara con le prove, come sempre, col monitor all'interno della clinica mobile. A un certo punto vediamo che Troy Belis scivola inspiegabilmente prima di una curva infrenata. Cade, si rialza. Tranquillo, non sembrava un incidente molto importante. Sì, una caduta, come tante altre, che eravamo abituati a vedere ogni tanto Belis o i piloti che a un certo punto cadono. Quindi, già dalla televisione ci rendevamo conto se era una caduta grave da andare in pronto soccorso, da seguire il pilota e tutto, oppure da stare tranquilli. Ero quindi sulla scaletta della clinica mobile a seguire l'evoluzione dell'incidente. Quando vedo arrivare di corsa, Troy, con la mano insanguinata, dottor, dottor, touch my finger, I won't raise. Ho detto, guardo, e c'aveva il mignolo che penzolava con un filo di pelle che veniva fuori e che lo teneva fermo. Veramente la cosa più importante che mi ha detto dopo era quella di voler riattaccare il dito e correre. Ma sai, sono allucinazioni d'adrenalina dei piloti quando hanno un incidente. Per cui l'ho preso e invece di entrare in clinica l'ho portato dai miei amici al pronto soccorso di Donnington. Al pronto soccorso si occupano del mignolo della sua mano sinistra, ma soprattutto della grossa botta all'inguine che Troy aveva assumito impattando contro il serbatoio durante la caduta. È rimasto nella memoria a tutti i giornalisti che poi sono venuti ad intervistarmi questo doctor cut my finger and worries. Nella mia vita di medico dei piloti di superbike, dei piloti di GP e tutto, non era la prima volta che mi trovavo con un pilota che si svegliava dal coma in ambulanza e mi diceva posso riprendere a correre oppure un altro pilota che si svegliava in ospedale. E mi chiedeva dottore, quando posso correre? Io in questa mia vita di piloti ne ho conosciuti tanti, tanti, tanti inglesi, americani, ma degli australiani, forse bu, perché mi piace l'Australia, ma loro hanno un carattere che è nettamente diverso dagli altri piloti. Per me sono i più simpatici e molto cordiali con tutti, non si danno arie, la fanno di tutti i colori, ne fanno e si rimangono sempre amici per sempre, per tutta la vita. Troi vince sempre, anche quando perde. Se non conquista la vittoria conquista il cuore delle persone. Due settimane dopo l'incidente, il 15 aprile, prende regolarmente il via a Valencia, dove arriva terzo. In quella gara, al sesto posto, si classifica Lorenzo Lanzi, suo compagno nel team ufficiale Ducati per il secondo anno consecutivo. la cosa più grande di Troi, il dono più grande è l'umiltà. L'umiltà perché lui è arrivato da niente, si è fatto da solo, con una gran passione, vera, sincera, e quindi lui si è sempre ricordato di quello che è stato il suo percorso e aveva sempre comunque un pensiero per le persone che gli stavano attorno, capito? Sia che fossero avversari, sia che fossero amici, parenti. Poi le giornate storte le aveva anche lui. L'ho visto vincere le gare in condizioni assolutamente imperiore. In quel momento lì, magari vuoi una condizione della pista, vuoi che è. E quindi ti posso dire che sicuramente di quell'epoca lì era il più completo. Sicuramente era assolutamente uno dei stigi forti della storia dello sport bike. È stato, tanto è vero che se non fosse una ZGP, secondo me, avrebbe vinto abbastanza più mondiale. E se quell'anno il mondiale gli sfugge, nel 2008 Troy ha una voglia bruciante di rifarsi. Però al solito spiazza tutti e a inizio anno annuncia ciò che nessuno dei suoi tifosi avrebbe mai voluto sentire. I miei figli stavano crescendo e il piano era di tornare in Australia prima che diventassero troppo grandi per portarli a casa nel momento giusto. E quindi, anche se avevo detto che avrei smesso nel 2002, avevo continuato ed era passato un bel po' di tempo e così ho promesso a Kim ancora un anno. Lo annunciamo appena inizia il campionato del 2008 perché se non fai l'annuncio ufficiale poi non riesci a smettere. Quindi, devo dirlo a tutti. E lo feci. E basta. Era fatta. Il 2008 sarà l'ultimo anno di corse di Troy. Ma sarà anche un anno magico seppur comincia con un incidente a Phillip Island a poche settimane dall'inizio del campionato in cui si rompe la clavicola. Ma stiamo parlando di Troy Baylis per cui alla prima gara del campionato in Qatar dopo non avere brillato nelle prove taglia per primo il traguardo sulla sua 1098R davanti a un agguerrito Max Viaggi anche gli sudducati. E il modo di Troy di lanciare un messaggio? Sono ancora qui. Sono il migliore. Il suo compagno di squadra è nuovamente un italiano Michel Fabrizio che ha fatto il tifo per Troy da ragazzo e ora ne ammira talento e determinazione. perché il fatto che quando decideva che era ora di fare il tempo di fare la gara per la massa chiudeva la visiera e lui la faceva. Aveva questa capacità di spingere il cervello e dare cassa a manetta. Soprattutto quando andavamo magari un po' in difficoltà e lui riuscìva a fare alcune volte di gran miracoli. A Valencia terzo round della stagione vince però Lanzi che ora guida una Ducati gestita da un team privato Troy arriva secondo ed essendo Troy non se la prende o non più di tanto. non era contentissimo che non aveva vinto la gara però fu il primo a farmi complimenti e ancora una volta si dimostrò la persona che poi ancora oggi ogni tanto ancora ci sentiamo ci scriviamo come stai come stai come vai insomma mi chiede cosa faccio come sono fatti adesso e poi mi dice sono contento per te che hai vinto oggi Lorenzo che tu mi sei rimasto davanti perché sei per me sempre la troia voce eccetera eccetera ma sono è chiaro le imprese di Baileys a lasciare un segno e l'ultimo graffio del campione avviene all'ultima gara del campionato come un grande attore Troy vuole scendere dal palcoscenico tra gli applausi scroscianti lasciando soltanto l'impianto dietro di sé siamo a Portimao in Portogallo ecco il ricordo di Davide Tardozzi è vero che è passato così un po' in secondo piano ma lui ha smesso di correre in moto con una gara in Portogallo dove ha dominato entrambe le gare per distacco quindi voglio dire ha lasciato da campione del mondo dominando le ultime due gare quindi io credo che quella sia stata una bellissima cosa ed ecco Michel Fabrizio che in gara 2 arriva dietro il suo compagno di squadra il momento più bello è quando avvento il mondiale e c'ero anche io con lui quindi quello è un ricordo il più bello anche perché all'ultima gara lui faceva il primo e il secondo quindi siamo arrivati quasi attaccati ed è stato bello festeggiarlo così il mondiale suo che in parte lo sentivo anche un po' mio ecco è stato un anno molto buono volevo finire proprio in quel modo poi arrivò l'ultima gara correre quell'ultima gara e vincerla quel giorno è stato incredibile il giro di rientro è stato uno dei giri più duri della mia vita perché era l'ultimo mi ci sono voluti anni per superare la cosa quel pomeriggio cala il sipario sulla favola di Troy Baylis il carrozziere o Baylistic come anche lo chiamano uno dei pochi piloti in grado di farti piangere come ammette Tardozzi di gioia sì assolutamente ma veramente cioè io sono stato veramente fortunato a passare così tanti anni con lui e a vivere dei momenti bellissimi a 39 anni dopo avere conquistato 52 vittorie e tre titoli ridati superbike essere stato l'unico pilota Ducati a vincere con tre modelli differenti di moto Troy abbandona la compagnia cantante ma non sarà capace di stare lontano dalle moto ha la benzina nelle vene e l'adrenalina che gli dona alla guida è linfa vitale per lui continuerà a correre per divertirsi non smetterà mai nel 2015 sostituirà l'infortunato Davide Giuliano alla guida della sua Ducati ufficiale due gare e quattro manche davvero le sue ultime nel mondiale superbike oggi pensi a Troy Baileys e vedi il suo sorriso lui sulla moto nel giro dopo il traguardo il casco levato gli occhi gli occhi umidi di gioia vedi la passione di questo pilota unico al mondo che ha vinto tanto e ancor più scaldato le nostre vite con le sue imprese lasciando un ricordo indimenticabile in chi l'ha conosciuto come Ernesto Marinelli per farti un altro esempio di come era il suo carattere dopo che si è ritirato nel 2008 a distanza di un anno quindi intorno al 2010 è tornato a fare un test al Mugello e lì era nel periodo ancora che mi ha voglio tornare no non torno ma e quindi è arrivato e ci siamo piccati praticamente un giorno di pioggia torrenziale quindi gli mando un messaggio la mattina dicendo guarda però è diluvia quindi prendetela con calma perché comunque sembra che pioverà tutto il giorno dunque la pista priva alle 9 lui alle 7 e mezza era in pista alle 8 aveva già la pista e alle 8.14 e gli chiudeva quando la pista priva ed era più di un anno che lo andava in moto è entrato e allora quel giorno lì ha fatto il nostro record superbike del Mugello con l'acqua che ha fatto paura e il giorno dopo ha quasi innecciato il record della pista con le switch che è il giorno dopo è asciutto almeno mezza giornata quindi per farti capire uno che ha un anno e mezzo che non va in moto torna in moto è comunque una pista dove un po' che non gira con una moto comunque diversa e mi dicendo e pronti via fa quello che fa quindi un Troy diciamo concentrato e convinto era praticamente infattibile testo di Luca dellicarri narrato da Giacomo Zito con le voci di Troy Baileys Massimo Corbascio Paolo Ciabatti Michelle Fabrizio Lorenzo Lanzi Ernesto Marinelli Davide Tartozzi per le citazioni Cortesi A Man A Rider A Legend Sport Review Production A A A A Grazie a tutti.